Fondo Ale, il lancio, Padone ancora il bianconniri, l'apertura in verticale, fuori gioco. Azzurri in azione, il pallone in profondità, i bianconniri che recuperano il lancio in verticale, la sfera fermata dal numero 6 De Rosa. Vesce, palla in profondità, Marino, recupera Salzano, sposta il gioco sul laterale sinistro. Pallone rasa a terra, Colangelo, Salzano, Marino, il cross, Azzurri in azione, fallo, punizione. Per l'atletico da Verna. Pallone per Vesce, fermato il gioco. Sera numero 11 De Caro. Pallone recuperato dagli azzurri che avanzano. Pallone fuori. Antonio, non siete, fermi, fermi qua. Rimessa laterale per l'atletico da Verna, batte il numero 3 Tommasini. In area di rigore la palla, nulla di fatto, risultato che resta invariato. Pallone per il numero 4, Salzano. Salzano avanza. Marino, Salzano. Marino. La palla in verticale. Tiro finale. E in questo caso il numero 7, ottima l'intenzione di gioco di Fassulo. Intanto, secondo campo, entra il numero 16. Pagare. Fondo area. Non passare il centrocampo. Non è su meno centrocampo. Vado, vinto al naso. Non è più per me per me. Biancondini in azione. Continuano a lanciarsi davanti. Pallone fuori. No, no, no. Ma Pallo sta qua. Gioca sempre in linea col pallone. Pallone in out. Pallone con il pallone. Vento, vento. Antonio, Antonio. Pallone. Pallone. Bravissimo. Il giocatore bianco, nero, ha diviato la palla fuori. Passi. Corner. Massimo, divino ad Antonio. Il numero 7, Carofalo. Batte il corner. Il destro. Pallone sul fondo. Niente di particolare. Ma che non vanno con Pipi? Non la vieni. Alpino, ora mi vittano. Fatte i cazzo tu. Numero 1, Civale. Occhio qua in mezzo. Carofalo, non salite sempre, caro. Il sinistro. Padone per Salzano. Salta di testa. Ancora Salzano. Il take. Fallo, punizione. Faustino. Non ha spettato il pallone. Non ci incontro. E... Non lo è disammitato. Bianco, veri in avanti. Rinancio. In profondità. La sfera corre per Marino e il suo sinistro. Bravissimo. Marino. Ci ha provato di nuovo. Vicino al gol. Il giocatore del Santa Cecilia. Santa Cecilia di nuovo in azione dinamica che poteva portare la realizzazione del gol. Intanto il portiere viene fatto pressing. Perdono palle. Il giocatore recupera De Caro. Il destro di De Caro. Pallone che viene perso. E' fuori in azione. Ottima la giocata. Pallone in profondità. La sfera in area di rigore. C'è Nico. C'è Nico. C'è Nico. La gran brazione. Non credo da verne in avanti. Fallo. Secondo l'ambito. Punizione. Ma voi da Fibara che vi chiamate i cartellini? Ma avete fuori ballone? Ma che siete femmine che vi chiamate i cartellini? Punizione. Punizione. Pagliazzurri batte il numero 9 Villicco sul pallone. Ed ecco il destro. Villicco. Fuori gioco. Secondo l'arbitro. Bianconeri in azione. Salzano. Palone a soterra. Vai Cernaro. Attacca non c'è l'ho. La triangolazione. Colangelo. Mirra. Pallone per Fasulo. In questo caso recupera ancora il Santa Cecilia. Colangelo. Si porta in avanti. Senza mollare. Salzano. Il Santa Cecilia avanza. De Caro. Gli azzurri si portano in fase offensiva. De Caro recupera. Villicco. E quindi il Santa Cecilia. Salzano. Salzano. Il lancio in profondità. In area di rigore la palla. Sfera che in questo caso termina nelle mani del numero 1 Fortunato. Fallo. Punizione. Girati Nico. Girati. Girati. Tiro finale. Delle mani di Civale. Che blocco. Ma che demisi nuovo? C'è il gol. Ma ce l'avevo a te. Non due punti. Ma va a te. Non due punti. Non due punti. Non due punti. Non due punti. Marino. Salzano Marino. Il lancio di sinistra. Pallone in profondità. Delle mani del numero 1 Fortunato. E ecco in questo caso perde tempo il portiere. Vediamo cosa succede. L'arbitro decreta la punizione a favore dell'atletico d'Averna. Punizione. Batte la punizione la squadra azzurra. Il lancio oltre il centrocampo a sfera che termina fuori. Salzano Marino. Mirra. Ancora Salzano. Mirra. La triangolazione. Padone fuori. Missa laterale per gli azzurri. Pianconeri in azione di gioco. Marino. L'apertura in aria di vigore. Cross. Attenzione. Mirra vicino al gol. Ci ha provato di testa. Sul cross. Di Fassulo. Di Fassulo. Santa Cecilia che stava pareggianti i conti. Padone in profondità. Sfera che viene formato. Padone oltre il centrocampo. Dico una mano. Lancio in avanti per il numero sette Fassulo. Colangelo. Colangelo. Continuo. Il lancio per Mirra. La finta. L'opportunità. Fassulo. In questo caso la palla termina nelle mani del numero uno. Fortunato. Ma a quanto pare è stato scalciato. Di nuovo Salzano. Salzano. Bel palleggio. Fallo sul Salzano. Anche se gli vuole dare la regola del vantaggio. Salzano sul pallone. Fassulo. Il cross. Per ora ribattuto. Sfera che termina fuori. Bianconeri in azione. Marino. C'era cammino. Vieni, vediamo così. Vieni, vediamo così. Ancora così. Vai, vai. Saliamo un po'. Marco Antonio. Saliamo un po'. Santa Cecilia in azione. Mirra. La finta. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Non la fa girare. Colangelo. Non la fa girare. Una vicina. La triangolazione. Mirra. Grande giocata di Mirra. Grande giocata. Dribbling. Consecutivo. Colangelo. Pallonetto. E palla deviata. Vicino al gol. Il Santa Cecilia. Su un cross. Tiro cross di Colangelo. Eccolo nelle immagini. L'autore di questo tiro. Santa Cecilia vicino al gol. che ha seminato panico nell'area di vigore. Corner. Fasulo dalla bandierina. il destro di Fasulo. Marino. Di nuovo vicino al gol. Il Santa Cecilia. Pallone deviato. Corner. Dalla bandierina. Fasulo. In destro. Salzano. Pallone che viene spazzato via. Di nuovo il Santa Cecilia. Bravissimo. Bravissimo. Marco Antuono. Pallone per Salzano. In area di vigore. Ed è corner. Per il Santa Cecilia. Un Santa Cecilia. Che adesso davvero sta offrendo spettacolo. Bianconeri in azione. Fasulo. Ci prova. In destro. La sotella. Mirra. Palla che viene spazzata via. Marco Antuono. C'è con il recupero. Cidale. Interviene. Spazza via. Una palla pericolosa. Credito da verne in azione. Fuori gioco secondo l'albico. Punizione. Pallone per Salzano. Marino. Mirra. Fallo su Mirra. L'arbitro fa continuare. Di nuovo il bianconeri. In azione. Fallo. Attenzione. Punizione. Mirra. Il lancio. Per De Caro. Il crossa. In area di vigore. La palla viene spazzata via. Marcantuno. Recupera Marcantuno. Bianconeri in azione. In Santa Cecipa avanza. Pallone in profondità. Il cross. La sfera. A De Cano. Salzano. Palla in alta. Sgritta. Sgritta. Marino. Colangelo. Ancora Marino. Ci prova Marino. In area di vigore. Palla che viene spazzata via. Marcantuno. Pallone per il numero due. Sgritta. La manovra diventa sempre più veloce e dinamica. Palla che però alla fine termina fuori. Palla che termina in alto. Fondo aree. Entra intanto il numero quattordici. Giannello per quanto riguarda l'Atletico Taverna. Fondo aree. Fondo aree. In destro. Pallone. Termina in alto. Di nuovo la pressione asfissiante del Santa Cecilia. Si fa sempre più interessante. Fallo sul numero 7 Fasuno. Per l'arbitro. Punizione. Punizione. Batte milla. Sul pallone. Mario. Mario. Un passo davanti e da lì. Questa volta. Vembo. Vembo. Occhio al secondo. Occhio al secondo. Cerca di piazzare la palla in area di rigore. Mita. La finta di Marino. Sinistro. Poi perdono palla. Il vignetto scorre ma viene fermato da Marco Antuono. Lancio la finta in area di rigore. Fuori gioco. Secondo l'arbitro ma è inesistente. Ed ecco che ci sono degli alimenti. Con miglia. Fulizione. Per gli azzurri. Esatto. Quindi praticamente si riprende a giocare con gli azzurri in azione. Pallone è fuori. Rimessa laterale per i bianconeri. Cinque minuti. Quattro minuti. Bianconeri in azione. Lancio per Salzano. Pallone è spazzato a due. Rimessa laterale. Batte il numero due. Sgretta. Colangelo. Marino. Il sinistro. Pallone è in rigore. Colangelo. Mirra. Il tiro finale. Pallone è.